Massimo Bitonci, in conferenza stampa con Matteo Salvini, lamentate una carenza di sicurezza e la maggiore presenza di immigrati nel nostro paese? Ormai è un'invasione, abbiamo 17 mila immigrati clandestini che sono arrivati sulle nostre coste dall'inizio dell'anno. Ormai questa operazione Mare Nostrum è un fiasco completo, 10 milioni di euro al mese costa. Potrebbero essere soldi dati ai pensionati, ai nostri esodati, alle persone in difficoltà. Vengono invece utilizzati anche per pagare gli alberghi a tre stelle, magari con la spa anche, a questi extracomunitari, a questi clandestini che in molti casi cosa fanno? Arrivano al nostro territorio, poi scappano e vanno nelle città, come a Padova, come in altre zone, a ingrossare quella fitta rete di criminalità che c'è ormai in molte città del nord. Noi diciamo basta, è ora di finire, proprio per questo chiediamo una mozione di sfiducia nei confronti del ministro Alfano, che sta gestendo in maniera pessima questa situazione drammatica. Bisogna considerare che ci sono migliaia e migliaia di stranieri che nel Nord Africa stanno per fare questo salto verso l'Italia. Non possiamo pensare di andargli a prendere con l'operazione Mare Nostrum, anzi noi chiediamo all'Europa di intensificare, di finanziare il progetto Frontex, che è un progetto importante e che mira il controllo del Mediterraneo. In particolare lei come candidato a sindaco, come vede la situazione a Padova? La vedo molto negativa perché l'attuale amministrazione sta facendo pochissimo per contrastare questo momento delicato. Le prefetture stanno indicando quali sono i comuni che possono ricevere questi clandestini. Molti comuni del nord, della Lega, stanno dicendo di no. Purtroppo Padova come sempre dice di sì e quindi ci sarà anche qui un aumento di clandestini nella città di Padova. Penso che sia ora di dire basta. Il nostro motto è Cambiamo Padova e stiamo lavorando in questi ultimi due mesi, in questa campagna elettorale, per arrivare al primo turno a vincere perché vogliamo che Padova cambi il suo volto.